Una donna di 54 anni, Anna Maria Palmieri, stata uccisa in un agguato ed stata trovata riversa in via dell'alveo artificiale nel quartiere periferico di San Giovani a Teduccio a Napoli. Lo si apprende da fonti della questura. Dai primi rilievi emerge che la donna è stata raggiunta da tre colpi di pistola al volto. La donna, rilevano le stesse fonti, aveva precedenti per reati contro il patrimonio. Per droga e per associazione per delinquere. La rea dà tempo attraversata da fibrillazioni tra clan. Indaga la polizia.